Un lettino elettrico adatto anche alle donne con diversa abilità, dono dell'Associazione Mosaico. Un dono importante per voi dell'Associazione. Com'è che è nata questa idea, questo progetto di dare questa donazione? Il progetto nasce dall'incontro tra il professor Mario Sgro, fondatore dell'Associazione Mosaico di V, con Angelo Petrulli e con il mondo della disabilità in generale, che si è concretato già nel passato, l'anno scorso con l'organizzazione di un convegno, benessere della persona con disabilità, che ha dato modo anche di dar luogo a una raccolta fondi con la quale poi abbiamo organizzato questa iniziativa. Perché è importante per voi questo lettino? È importante perché rende possibile un'omogeneità di visite per tutte le donne che accedono e un'omogeneità nei tre consultori, che sono tutti dotati di un lettino, che se permettendo questa mobilità assoluta in ogni posizione, permette a qualsiasi donna di poter accedere. L'importanza di avere un lettino strutturato in questo modo, che permette appunto molta agevolezza alle donne, nasce anche dal fatto che il numero di accessi è elevato, sia per le visite ostetriche, sia per le visite ginecologiche. Anche quest'anno, nonostante l'emergenza Covid, ad oggi i numeri di accessi sono stati attorno ai 2.300. Le donne diversamente abili che necessitano anche di questo lettino sono tante? Non abbiamo dei dati specifici su questo, però è capitato in passato. Per esempio donne che hanno disabilità, specialmente con lo screening serena, dove c'è una fascia di età diversa, che vengono chiamate senza avere un'anamnesi o una conoscenza prima della visita, sicuramente con questo lettino, che è l'ultimo che completa la dotazione di tutti i tre consultori, permetterà a tutte di accedere senza nessun problema. Voi avete colmato a Dottor Sgro una lacuna in questo caso, ma il mosaico, perché fa queste cose? Il mosaico perché è molto sensibile ai problemi della sanità, tant'è vero che è un'associazione di orientamento sanitario e chiaramente di solidarietà sociale.